Prima Per il mio trentesimo compleanno, il mio ragazzo e la mia famiglia sono venuti a trovarmi a Firenze. Sono arrivati da tutte le parti del mondo per festeggiare insieme. Il giorno prima del mio compleanno, all'albo sul Ponte Vecchio, il mio ragazzo mi ha chiesto di sposarlo, ed è stato il giorno più bello e romantico della mia vita. Per celebrare quel momento abbiamo scattato delle foto. Più tardi, quello stesso giorno, abbiamo comunicato la grande notizia alla mia famiglia. Tutti ci sono congratulati con noi. Hanno pianto, cantato, ballato, e si sono abbracciati. È stato un momento così speciale che non dimenticheremo mai. Nella stanza si respirava un'atmosfera vivace e gioiosa, molto simile a quella della festa dei nozzi in una casa contadina di Peter Bruegel il giovane. Dopo Il mondo è pieno di incertezze. Non so quando potrò rivedere la mia famiglia e abbracciarla. Nei momenti difficili ci sentiamo più sereni stando vicino a coloro che amiamo. Sforzatamente questo virus ci impedisce di fare proprio quello che noi sarebbe più naturale. Il dipinto di Bruegel, realizzato nel 1564, raffigura persone comuni che si divertono a una festa di matrimonio. L'internazione delle figure anima alla scena, in cui vediamo raffigurati i nostri desideri più alimentari. L'amore per la musica, il movimento e la necessità di relazionarci gli uni con gli altri. Ora mi ritrovo a guardare le foto e i video della mia festa di compleanno e fidanzamento. Ascoltare le canzioni, le risate e il tintinio dei bicchieri mi trasportà in quello che sembra un mondo completamente diverso. Forse il dipinto di Bruegel il giovane, eseguito in occasione del suo matrimonio, ebbe lo stesso effetto di risollevare il morale. Che si tratti di un dipinto, una fotografia, una poesia, l'arte ci portà in un altro mondo quando abbiamo bisogno di una via di fuga. Grazie a tutti.